Esce il concorso, anzi il concorsone come è stato definito al Comune, USB però ha delle perplessità. Scrive al Comune, non arriva la convocazione come avevate richiesto, ma delle risposte dal Segretario Generale che comunque non vi convincono. Perché? Non ci convincono perché sono risposte di una ovvietà inaudita. Sono cose che già sapevamo tutti, premesso che l'USB aveva già proposto i concorsi da memore tempore, premesso che avevamo proposto dei percorsi interni per le categorie A e B che fanno le B e le C, premesso che doveva essere tutto antecedente al concorso esterno. rileviamo delle cose che secondo noi ci fanno porre delle domande, perché è tutto facoltativo da parte dell'ente, però l'ente ha fatto delle scelte, che sono scelte politiche, quindi di tutta l'amministrazione, a ribasso. In che senso? Nel senso del percorso interno ai concorsi dal 20 al 50, quando tutti i Comuni con il decreto Madia e il milleproro che mettono al 30. Il Comune di Civecchia al 20. Perché? Perché ha scelto così l'amministrazione. Nel piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 è stato inserito il posto che non c'era da funzionario direttivo tecnico ambientale. Questo posto tecnico ambientale per il contratto nazionale di lavoro era materia di confronto e informativa. Che significa? Che l'amministrazione ha intenzione di istituire un posto nuovo, convoca i sindacati, gli dà l'informazione e dibatte entro un mese circa con le deduzioni anche dei sindacati. Dopo fa la delibera e lo inserisce nel piano triennale. Tutto ciò non è avvenuto. Come organizzazione sindacale e come rappresentanti dell'ARSU non è che abbiamo chiesto all'amministrazione la compartecipazione per l'indizione dei concorsi. Ma assolutamente. Quello è il compito dell'amministrazione. Stabili i concorsi, chi, come, perché, per quando. Però con l'amministrazione noi volevamo aprire un dibattito su determinate cose. L'amministrazione comunale dica apertamente ai dipendenti, ma lo deve dire non a noi, organizzazioni sindacali, lo deve dire ai dipendenti. Non ci interessa niente delle vostre professionalità. La legge, Mattia, è facoltativa. Non la applichiamo. Le progressioni verticali non ve le facciamo fare perché dobbiamo fare i concorsi che diciamo noi. Punto e basta.